buongiorno amici un salutone dal vostro adobora allora volevo andare avanti subito con il libro scardinare il sistema tecnogeno e parlarvi del capitolo muoversi per la scala mobile partiamo non bisogna contare solo sull'accordo con l'inconscio e trascurare l'aspetto dell'attività fisica su una persona che segue uno stile di vita sedentario le mollette si appendono in modo rapido e saldo risultati sicuri al cento per cento lì da solo l'approccio integrato come pensiamo come ci nutriamo e come ci muoviamo il movimento svolge un ruolo molto importante ho già paragonato lo stato dell'organismo con il movimento sulla scala mobile fino circa ai vent'anni la scala mobile va su mentre dopo comincia un movimento in direzione opposta all'ingiù dove non c'è dove non c'è sviluppo comincia il degrado quello che non si usa si atrofizza ripetiamola amici dove non c'è sviluppo comincia il degrado quello che non si usa si atrofizza quindi se volete mantenervi in forma dovrete occuparvi quotidianamente del vostro sviluppo scegliervi un tipo qualsiasi di attività fisica sport fitness ginnastica e risalire gradualmente per la scala mobile che va in giù fino a raggiungere il livello che vi soddisfa quindi fare passi misurati in su seguendo il programma individuale di esercizi che vi siete prefissati gli esercizi di ginnastica dovranno essere di tre tipi somatici cioè per il rilassamento di forza carichi dinamici e di estensione stretching gli esercizi somatici rilassano e allungano i muscoli tolgono i blocchi e le tensioni gli esercizi di forza fanno crescere la massa muscolare mantengono il tono dei muscoli ripristinano la microcircolazione sviluppano i vasi favoriscono la depurazione dell'organismo gli esercizi di estensione sviluppano i legamenti liberano le risorse motorie aumentano la libertà del corpo conferiscono ad esso scioltezza ed elasticità questi esercizi vanno eseguiti proprio secondo l'ordine indicato prima il rilassamento poi carichi dinamici e solo alla fine o alternando con la dinamica dopo un buon riscaldamento l'estensione gli esercizi dovranno essere massimamente eterogenei ma siccome la sindrome da tensione muscolare riguarda soprattutto la zona della spina dorsale occorre prestare un'attenzione particolare alla schiena al collo e alle spalle si possono utilizzare dei metodi un po diversi finalizzate eliminare il dolore alla schiena le proposte oggi sono molte in dvd e nei libri scegliersi una sequenza di esercizi che secondo voi è adatta al vostro caso e vi piace svolgere come punto di partenza si possono prendere due metodi quello di thomas anna e quello di sergei bubnoschi secondo me sono i due orientamenti migliori in tema di colonna vertebrale thomas anna come gioco come john sarno è uno dei pochi medici all'avanguardia che ha fatto attenzione al rapporto e alle interrelazioni tra l'intelletto e il corpo a proposito della sindrome da tensione muscolare il dottor anna ha più o meno la stessa opinione di sarno solo che utilizza un altro termine amnesia senso motoria e tutt'altro approccio eliminazione dei blocchi attraverso il rilassamento dei muscoli il dottor anna ha messo a punto un sistema di esercizi somatici che gli definisce la distensione felina quotidiana non occupano molto tempo il suo metodo è descritto nel libro l'arte di non invecchiare edizioni peter è un libro raro ma lo si può recuperare nei negozi o sicuramente in internet sergei bubnoschi al contrario punta la sua attenzione sui carichi dinamici come mezzo per contrastare la sindrome da tensione muscolare è anch'esso un metodo molto sensato il dottor bubnoschi ritiene che i muscoli si possano ripristinare a qualsiasi età i suoi libri ora si trovano facilmente per esempio priroda ramzum kotela titolo in russo e cioè la natura del corpo ragionevole tutto sulla colonna vertebrale e le articolazioni come vediamo ci sono tre metodi di eliminazione della sindrome da tensione muscolare l'accordo con l'inconscio gli esercizi somatici per il rilassamento i carichi dinamici potete sceglierne uno utilizzarli tutti insieme secondo la mia opinione i risultati migliori si ottengono non con l'approccio unilaterale ma con quello integrato cioè il primo il secondo e il terzo più avanti più avanti elenco i momenti principali che sarebbe bene conoscere e tenere presenti l'organismo è un sistema autorigenerantesi esso contiene un potenziale di rigenerazione e sviluppo però si tratta di un potenziale di una possibilità bisogna ancora considerare che l'organismo non arde dal desiderio di evolversi esso raggiunge uno stato minimamente accettabile di status quo e si ferma poi comincia gradualmente a degradare per questo al fine di mantenere una buona forma bisogna dare all'organismo un carico di lavoro e incitarlo con un'intenzione finalizzata allo sviluppo e al perfezionamento di nuovo serve qui un approccio integrato come pensiamo come ci nutriamo e come ci muoviamo se non si allena il corpo esso giungerà sino allo stato ottimale più basso sufficiente a permettergli di sopportare soli carichi previsti né più né meno seguendo regime alimentare a base di cibo vegetale vivo la massa muscolare può ridursi con un regime a base di cibo morto invece il corpo comincia ad accumulare scorie tossine grasso e altra zavorra i muscoli saranno sviluppati quel tanto che basta per trascinarsi dietro il corpo il corpo massiccio di un uomo che segue uno stile di vita sedentario non è pieno di muscoli fatti sul lavoro ma soprattutto di zavorra come si diceva sopra gli esercizi devono essere massimamente diversificati mirati allo sviluppo di tutti i gruppi muscolari quando tutti i muscoli vogatori sono sviluppati allora per il cuore è tutto più semplice e i vasi i letti dei fiumi sono sani e ad ampia portata se i requisiti fisici lo permettono è assai utile la sequenza standard di esercizi associate flessione a terra trazioni ripetendoli a sufficienza a questi esercizi aprono le finestrelle come dice il dottor bubnoschi sciolgono i principali blocchi le tensioni muscolari e gli spasmi tutti i movimenti devono essere accompagnati dal pieno piegamento e dalla piena estensione dell'estremità e non come viene con movimenti eseguiti per un terzo in tutti gli esercizi l'attenzione va concentrata proprio sulla fase del rilassamento e non sullo sforzo è sempre difficile costringere i muscoli a rilassarsi mentre a lavorare sono già abituati non bisogna sforzarsi troppo gli sforzi devono essere adeguati i carichi devono venire gradualmente aumentati gli esercizi non vanno eseguiti con pigrizia ma nemmeno con esagerata alacrità a partire da questo principio ognuno deve fissare individualmente il periodo di durata dell'allenamento il movimento deve procurare piacere se questo non avviene significa che l'organismo è sovraccarico di scorie e tossine in questo caso occorre ridurre il carico di esercizi e provvedere alla depurazione dell'organismo è consigliabile eseguire gli esercizi ogni giorno ma va bene anche a giorni alterni ad ogni due giorni a seconda della voglia e delle possibilità l'importante è farlo con regolarità non esagerate non arrivate all'esaurimento se nella vostra sequenza di esercizi se nella vostra sequenza gli esercizi sono tanti li potete suddividere per giorni il primo giorno potete allenare un gruppo di muscoli il secondo l'altro gruppo eccetera parallelamente ai movimenti cercate di prestare attenzione ai flussi energetici i principi fondamentali sono stati illustrati nel libro il transurfing vivo dopo gli esercizi farebbe bene versarsi addosso un secchio di acqua fredda più è fredda meglio è e per altri 20 secondi bagnarsi con una doccia fredda le abluzioni con l'acqua fredda sono ammissibili solo se il corpo è ben riscaldato se invece si è raffreddato bisogna inizialmente riscaldarsi con una doccia calda quindi bisogna sfregarsi il corpo con un asciugamano concentrarsi per un minuto sentire come il corpo viene attraversato da un potente flusso di energia dopo le abluzioni è così e pronunciare una delle vostre forme pensiero legate al fine in queste situazioni di slancio energetico l'impostazione del fine funziona in modo assai efficace mentre fate gli esercizi pensate all'obiettivo che vorreste raggiungere facendoli ripetete ogni tanto delle brevi forme pensiero del tipo tutti i miei muscoli si stanno rilassando i blocchi energetici si stanno sciogliendo il mio organismo si sta depurando rinnovando ripristinando sviluppando il mio inconscio il mio re sta rimettendo in ordine tutto il mio organismo la massa muscolare sta aumentando ho una buona salute e un bel corpo una salute vigorosa un forte potenziale energetico un intelletto potente una coscienza potente gestisco la mia realtà come se fosse un sogno lucido e la forza è con me la forza mi conduce per questo faccio tutto in modo geniale e brillante seguendo questi consigli nel loro complesso otterrete inevitabilmente ciò che avete intenzione di avere bene amici per questo capitolo è tutto se volete iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per essere sempre avvisati all'uscita di ogni nuovo video sul canale e ricordatevi sempre che vi voglio bene e ci vediamo al prossimo capitolo ciao